Nomine ufficializzate ieri e poi, come annunciato più e più volte, il governo Alessandrini accende la macchina amministrativa. Già prima della vittoria elettorale Marco Alessandrini aveva convocato una conferenza per porre l'attenzione sull'esiguità delle casse comunali. Un buco di milioni di euro che già lo preoccupava. Alcuni pagamenti non effettuati dai cittadini rendevano non disponibile la liquidità delle casse. La prima conferenza stampa allora è dedicata proprio a questo. Un avviso a tutti i cittadini che non hanno ancora pagato la tassa sui rifiuti. La Tares manca all'appello un cospicuo numero di pescaresi. È solo un invito di pagamento a tasse già istituite in passato, già scadute, per cui i contribuenti ancora non hanno provveduto, sono in ritardo, ma non sono assolutamente nuove tasse, non c'è assolutamente alcuna intenzione di metterne di nuove. Dobbiamo solo fare in modo di riscuotere ciò che è il progresso. Siamo intorno ai 7 milioni 700 mila euro che mancano le casse, quindi noi riteniamo, speriamo che la cittadinanza ci venga incontro, che faccia quest'ulteriore sforzo in questo momento particolare per tutti e riteniamo di poter riscuotere una buona fetta di questa somma, nell'interesse di tutta la cittadinanza ovviamente. Una buona notizia è quella che gli avvisi che riceveranno i cittadini nei prossimi giorni non implicheranno alcuna multa, se pagata entro 30 giorni. Un incipit morbido che certamente i cittadini vessati apprezzeranno in epoca di vacche magre. I cittadini avranno 30 giorni e potranno pagare comodamente senza subire nessuna sanzione e nessun interesse per ritardato pagamento. Ovviamente decorsi questi 30 giorni incorreranno nelle sanzioni previste dalla norma, le sanzioni sono abbastanza elevate, sono circa il 30% più il ritardato pagamento. Io per cui inviterei tutti veramente a fare un attimo uno sforzo in più per aiutare le casse comunali e evitare anche a loro poi una volta che non hanno pagato poi diventa titolo esecutivo, oltre alle sanzioni avranno gli interessi di ritardato pagamento e la somma veramente sarà decupilcata.